Nel 2013 Giuseppe Ratzinger, Papa Benedetto XVI, rinunzia al ministerium e non al munus, quindi tecnicamente rinunzia all'esercizio del ruolo di Papa senza rinunziare al ruolo di Papa. Già questo basterebbe a dire che anche dopo il 2013 Ratzinger resta Papa avendo rinunziato al ministerium e non al munus e perciò stesso facendo risultare invalida l'elezione di Bergoglio, perché se Ratzinger rinunzia al ministerium e non al munus produce la sede impedita e non la sede vacante, almeno fino al 31 dicembre 2022 quando muore e quindi torna a essere libera la sede, si produce la sede vacante. Ma molti altri sono gli argomenti che vengono adotti per spiegare il fatto che l'elezione di Bergoglio è invalida, oltre naturalmente a quello appena citato che è l'argomento principale. Tra questi argomenti viene uno che voglio menzionare e discutere brevemente. L'argomento riguarda il fatto che Ratzinger, che Ratzinger di fatto il 28 febbraio del 2013, disse che la rinunzia, la renunziazio sarebbe entrata in vigore alle ore 20 del 28 febbraio 2013. Di fatto la renunziazio dunque è stata proposta come una renunziazio indifferita, ma noi sappiamo che a rigore un gesto di questo tipo secondo il diritto canonico non può avvenire indifferita, avviene contestualmente nel momento in cui viene dichiarato. Eppure tecnicamente Ratzinger disse che dalle ore 20 non sarebbe più stato, avrebbe cessato di esercitare il ruolo. Quindi di fatto aver prodotto una renunziazio indifferita, o meglio con entrata in vigore indifferita, avrebbe reso tecnicamente quel gesto, un actus invalidus. Questo è il punto che stiamo qui discutendo. In sostanza non si può produrre un gesto di quel tipo indifferita. E questo è un tema sul quale è stata portata l'attenzione. Anche Andrea Cionci nel suo studio sul codice Ratzinger insiste su questo aspetto, che ripeto è uno dei tanti, dei tanti che sono stati presi in esame, sia Alessandro Minutelle in Dove Sei Pietro, sia Andrea Cionci nel codice Ratzinger ne hanno analizzati tantissimi e questo è uno di quelli non trascurabili. Messi insieme poi ci restituiscono un quadro completo del fatto che Ratzinger in realtà mai ha rinunziato al munus petrino, avendo rinunziato solo al ministerio e di più ha tecnicamente reso invalida l'elezione di Bergoglio.